E' stato individuato dalla squadra mobile della questura di Arezzo l'aggressore che lo scorso mercoledì a pieno giorno in pieno centro storico a Retino alla culmine di una violenta lite aveva coltellato un'altra persona procurandogli la perforazione di un polmone. Primo l'ha aggredito il secondo alle spalle sferrandogli un colpo di coltello alla gamba. La vittima è caduta a terra e l'aggressore gli ha sferato un secondo colpo all'emitorace destro causandogli la rottura di alcune costole e il perforamento del polmone. L'aggressione si era consumata all'incrocio fra Viale Michelangelo e Via Vittorio Veneto a pochi passi dalla stazione di Arezzo. L'aggressore ha dei precedenti per droga, l'aggredito ha dei precedenti per minaccia. Molto oralmente l'aggressione scaturisce da una questione legata allo spaccio di sostanze superfacenti. A lanciare l'allarme era stato un passante. Sul posto erano così intervenute polizia locale che aveva dato avvio alle indagini sanitari del 118. La vittima era stata portata in codice rosso prima all'ospedale San Donato di Arezzo e poi trasferita alle scotte di Siena, sottoposta ad un lungo intervento al momento fuori pericolo. Ieri pomeriggio gli investigatori della squadra mobili hanno individuato il nascondiglio dell'aggressore a Montevarchi all'interno del quale sono stati ritrovati alcuni grammi di hashish. Attraverso un'attività di polizia investigativa classica sostanzialmente, i testimoni che avevano assistito alla scena erano pochi ma comunque insomma ci siamo dati da fare e siamo riusciti ad arrivare al risultato entro molto poco. In manetta è così finito un cittadino marocchino di 27 anni che adesso dovrà rispondere di tentato omicidio e porto d'arma.